In parte ricalca quella che ho fatto a Letizia, c'è un futuro, c'è un futuro immediato insieme a Rotary Firenze Sud di cui ci interessa sapere qualcosa. C'è questa sinergia nata grazie alla volontà di Rotary Firenze Sud e di tutto il club di Rotary Firenze Sud di sostenere questa iniziativa, che è un'iniziativa comunque anche onerosa perché i ragazzi vengono ospitati insieme alle loro famiglie, ai loro istruttori per un intero weekend, quindi si parla non soltanto dei ragazzi, vengono ospitati i cavalli viene data una formazione secondo noi ai massimi livelli perché Sarah Murganti ha vinto i campionati del mondo della loro disciplina, quindi viene creato tutto, l'insieme viene data un'impostazione proprio per fare sport e per portarli a vincere a livelli più alti perché l'obiettivo che si può fare in un centro come il nostro come il Riding Club Mugello è proprio quello di creare il futuro e il prossimo livello dello sport agonistico toscano.